Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, sono GabboGamer Oggi andremo a fare il dodicesimo episodio della GabboCraft Con JulianPlay in sottofondo Bella raga Quindi raga abbiamo JulianPlay come cameraman Anche se l'inquadratura questa è, questa va bene Però ovviamente mancheranno I cosi qua, mancherà molto vetro Ok raga faremo un taglio Fino a quando non ho piazzato tutti questi Bella Raga eccoci qui Siamo ritornati nella nostra postezione Poi potete vedere Qui non ho più arbusti O arbusti come vi chiedo chiamare Una mela Una mela raga E' essenziale la mela Vabbè allora qui Ti consiglio di andare a dormire così iscritti Vedo meglio cosa fai Effettivamente prima Spacco male Guarda quanto è uno zombie Spacco male questo qua Ragazzi vieni qui Che è un spacco male Ci vediamo che deve dire Allora sento uno scheletro qui che ci sta morendo male Cioè raga ho pure notato Che la casa non ha manco una porta Cioè è proprio il budget Cioè manco la porta Cioè i ladri qua c'entrano malissimo Che fosse un inviteriale Però noi siamo Uppi quindi Se ne siamo riusciti a vivere Senza porta Hashtag Senza porta Se riesco a trovare Un albero Di betulla Sarei molto Felice La 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 Ce ne sono un bordello Non so perché non li ho notati Negli scorsi episodi Adesso abbiamo tre farm In totale Abbiamo la farm Del pollo Perché ancora Non me ne è spawnato nessuno La farm di grano E la farm di alberi La farm di alberi Sarebbe la farm Di alberi Non so se altro ci posso aggiungere a quello Ah raga Comunque Creo un po' di casetta lì Ci vediamo Quando ho preso legna Almeno mezza stack Ci vediamo in casa Eccomi qui tornato Ho preso Mezza stack Di legna 33 Quindi leggermente Più di mezza stack Però Ci sta Allora Prendiamo Cosa No Non mi hanno droppato i semi Droppane due Per favore No Oh Due 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 Mi sono salvato raga Allora Dopo aver fatto questo Io direi di andarci a fare I componenti Per la casa Tra virgolette Torce E Vetro sarebbe carino Però ancora devo prendere sabbia Quindi per il momento No Questo episodio Può finire qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un pollicione in su Se vi è piaciuto ovviamente Iscrivetevi al canale Se volete vedere futuri episodi Della Gabocraft E forse anche delle Skywars Non so quando li continuerò a caricare Però Detto questo Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao